Con il passare delle ore si comincia a delineare il quadro della morte di Franca D'Agostino, la 77enne trovata senza vita nel suo appartamento dove viveva con la figlia. Secondo i primi esami, la tragedia è avvenuta un mese prima nel piccolo appartamento delle case popolari di Via Arno a Teramo. La donna sarebbe deceduta dopo un malore in bagno e la figlia di 43 anni ha tenuto il corpo sul letto fino a domenica cercando di mascherare l'odore con coperte bagnate e saponette. La procura di Teramo sta indagando per occultamento di cadavere e potrebbe presto notificare un avviso di garanzia alla figlia, attualmente ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Teramo, dove sia lei che la madre hanno già stato in passato. Ieri è stata eseguita l'ispezione cadaverica disposta dal PM Greta Aloisi e oggi il medico legare Giuseppe Schar riceverà l'incarico per l'autopsia che sarà effettuata nei prossimi giorni. La prima ispezione sul corpo in avanzato stato di decomposizione ha confermato l'assenza di segni di violenza, sostenendo l'ipotesi di morte per malore e ha indicato che il decesso è avvenuto circa un mese fa. Tuttavia sarà necessario attendere l'autopsia per dettagli più precisi. Nel frattempo i carabinieri stanno verificando se la pensione dell'anziana, che non usciva più di casa, sia stata ritirata nel mese scorso e stanno interrogando i vicini come persone informate sui fatti. La pensione di invalidità era l'unica fonte di sostentamento per le due donne. Ieri i militari hanno effettuato un nuovo sopralluogo nell'appartamento sequestrato con ulteriori controlli in bagno e nella stanza da letto, dove il corpo dell'anziana è rimasto per un mese. Domenica il tanfo insopportabile ha spinto i vicini a chiamare i vigili del fuoco. Quando i pompieri sono arrivati, la donna è uscita di casa, vagato per la città e chiamato i carabinieri, e poi è salita sul treno per Giulianova, dove è stata rintracciata e portata in caserma. I vicini hanno descritto la figlia come solitaria e riservata, mentre la madre non si vedeva in giro da tempo a causa della malattia.